ciao a tutti benvenuti oggi parliamo di oggi vi segnalo un post che mi ha colpito a volte quando visito le case usate noto le infiltrazioni di acqua che sono uno dei grandi problemi delle abitazioni mal intermeabilizzate o che presentano rotture nella struttura gli elementi più esposti alla infiltrazione sono i tetti i camini e i balconi però semplici scossaline e protezione in lamiera possono risolvere il problema che sembrava invece grave il nostro consiglio è sempre di fare un sopralluogo con un tecnico di vostra fiducia o con i tecnici che collaborano con la nostra agenzia prima dell'acquisto perché alcuni problemi sembrano gravi ma si risolvono facilmente altre situazioni vengono invece sottqualitate ma un tecnico ne percepisce immediatamente la gravità cliccate sul link per leggere il post che condividiamo da mycasi.it se vendete casa o cercate casa contattateci nel post di facebook e nella descrizione del filmato di youtube ci sono tutti i nostri contatti ciao